Per mettere a rendita degli asset che non siano stablecoin, spesso borroware è l'opzione migliore. Ma cosa vuol dire borroware? E soprattutto come si fa? Ecco che entra in gioco il money market, le piattaforme di lending e borrowing DeFi che saranno oggetto di studio super super approfondito in questa quinta, mamma mia siamo già alla quinta, puntata del nostro corso di DeFi per principianti. Come sempre partiamo dalla teoria, quindi cerchiamo di capire che cos'è, come funziona e a cosa serve un money market o una piattaforma di lending borrowing che dir si voglia, quali sono i suoi rischi, il tutto con l'aiuto delle nostre solite slide che potete scaricare gratuitamente e poi una volta capita tutta bene la teoria, quindi da dove pagano, come fanno a pagare, come funzionano i tassi di interesse, come si fa ad utilizzarle, quindi degli esempi di strategie di utilizzo sia da lender che da borrower, andiamo a vedere un po' di pratica. Quindi prendiamo in mano le piattaforme più famose di lending e le andiamo a utilizzare, esaminare una a una. Il video è abbastanza lungo proprio per questo perché c'è tutta una parte dedicata sia alla teoria che sia interessante ma poi so che a voi piace la pratica sia appunto alla pratica, quindi con tutorial, piattaforme alla mano, esaminiamo tutti i suoi parametri eccetera eccetera. Quindi mi raccomando guardatevelo tutto, magari in più spezzoni per non addormentarvi in una volta sola ma spero che come sempre questo contenuto vi possa portare del valore. Ora basta chiacchiere e andiamo a buttarci in questi money market perché tutti vogliamo borrower. Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi procediamo la nostra esplorazione del fantastico mondo della DeFi con un'altra categoria di protocolli di quelli chiamati primitives ovvero i pilastri portanti che permettono alla DeFi di funzionare efficacemente. Stiamo parlando dei cosiddetti money market meglio definibili come protocolli di lending e borrowing ovvero credito e debito, prestito collateralizzato, chiamiamoli come vogliamo ma di fatto sono quei protocolli dove si può depositare liquidità e metterla a rendita prestandola a terzi oppure depositare collaterale e utilizzarlo come garanzia per chiedere un prestito a questi terzi. Adesso se non state ancora capendo bene questi termini non preoccupatevi perché andiamo nel dettaglio e ci spieghiamo in maniera molto chiara, vedrete. Iniziamo subito con una panoramica come di consueto di ciò che approfondiremo oggi. Partiremo dal capire ad alto livello che cos'è un money market quindi quando parliamo di piattaforma di lending esattamente cosa succede al suo interno quali dinamiche le permettono di funzionare efficacemente, di funzionare in tutte le condizioni quali incentivi vengono erogati e come fanno a stare in piedi. di fatto pagando gli interessi che pagano. Andiamo a vedere poi i parametri che vengono cambiati in corso d'opera proprio per farla funzionare efficacemente ma in particolare ci concentriamo sul lessico. Questi parametri magari come l'on to value, tasso di collateralizzazione, liquidation price che magari a qualcuno possono essere oscuri e è vietato che siano oscuri perché i rischi ci sono altrimenti meno si conosce più si rischia di fare cavolate quindi oggi esploriamo molto bene anche queste terminologie, questi meccanismi che sono ciò che poi fa funzionare bene il money market. Andiamo a vedere come di consueto quali sono i rischi perché ci sono sempre rischi nella DeFi vi ricordo che il rischio zero non esiste ci sono sempre i classici rischi sistemici quelli comuni a tutti i protocolli e poi ci sono alcuni rischi molto specifici invece dei protocolli proprio di lending e borrowing li andiamo a vedere e poi andiamo a vedere un paio di strategie di base proprio rispondiamo alla domanda ma perché usare queste piattaforme? soprattutto ma perché borroware? che vuol dire prendere in prestito se qualcuno se lo stesse chiedendo in molti mi avete scritto ma perché mai io dovrei depositare crypto lì dentro e usarle per prendere in prestito stablecoin? a cosa mi serve? ecco rispondiamo anche a questa domanda e andiamo a vedere quali sono i costi e i guadagni di queste strategie di base dell'utilizzo dei money market terminiamo con un elenco nonché breve tutorial pratico dei principali money market esistenti sulle varie chain e cosa volete di più mi chiedo? non lo so però se vi piacerebbe vedere altro volete nei prossimi episodi trattato qualcosa di particolare mi raccomando scrivetemelo sempre nei commenti lasciatemi le vostre domande i vostri dubbi il vostro feedback per me è estremamente prezioso ora procediamo e partiamo dalla struttura di un money market quindi che cos'è? il money market è una piattaforma di prestito prendete ad esempio Aave prendete ad esempio Compound prendete ad esempio Tectonic se usate Kronos che so che molti di voi lo usano ecco questi sono tutti dei money market basati sullo stesso funzionamento di base che è estremamente semplice abbiamo da una parte il lender che è colui che presta la sua liquidità quindi la deposita all'interno di questa supponiamo banca virtuale immaginatevi una sorta di banca decentralizzata a tutti gli effetti questa liquidità può essere chiesta in prestito dall'altra parte dove c'è il borrower il borrower è colui che arriva e ha bisogno di liquidità vuole liquidità che cosa fa? non è che la può prendere in prestito dicendo ti prometto che te la restituisco perché nelle crypto sapete non funziona così c'è anonimato non ci sono i punteggi di credito e non vai lì e porti la tua busta paga quindi non funziona così l'unico modo per chiedere un prestito in liquidità a una piattaforma money market è lasciare del collaterale a garanzia chiaramente il collaterale sono altre crypto quindi vi faccio un esempio io deposito i miei ethereum ether o meglio nel mio money market che voglio andare ad utilizzare questo il controvalore totale degli ether che deposito mi darà un potere di indebitamento massimo quindi supponiamo che io deposito supponiamo che ether vale 4000 dollari io ne deposito 5 per un totale di 20.000 dollari io posso prendere in prestito un massimo che per ovvi motivi non sono tutti i 20.000 dollari perché se no se ether mi fa meno 1% io già divento insolvente ma magari sarà la metà saranno 10.000 dollari proprio per lasciare del margine ed evitare che a una minima fluttuazione di mercato ci sia un rischio di insolvenza ovvero di incapacità di ripagare i propri debiti di massa che si ripercuoterebbe se ci pensate sui lender che andrebbero a finire in perdita e quindi il sistema collasserebbe quindi io borrower deposito il mio collaterale come garanzia chiedo in prestito altri asset che possono essere stable coin possono essere altre cripto bitcoin, vbtc non lo so, link qualsiasi cripto supportata dal money market questo è il concetto che ci sta dietro il collaterale funge da garanzia posso fare sia da lender che da borrower e quindi vedete che è una sorta proprio di banca decentralizzata non abbiamo l'istituto di credito che ci concede il prestito e ci chiede l'interesse ma siamo noi stessi in maniera disintermediata a metterci in contatto gli uni con gli altri la liquidità offerta alla piattaforma e la liquidità in domanda verso la piattaforma vengono a contatto e si genera un tasso di interesse dinamico proprio in base a domanda e offerta andiamo a vedere meglio cosa si intende con tutto ciò come funziona un money market? allora il money market ha tre compiti principali come vi accennavo poco fa calcolare dinamicamente il tasso di interesse quindi sui prestiti come sapete se andate in banca a chiedere un mutuo un prestito c'è sempre un tasso di interesse ovvero voi chiedete in prestito 10.000 dovete ripagare 11.000 magari il 10% in più dipende poi dal tasso di interesse che appunto l'istituto di credito vi concede nel money market non essendoci un istituto di credito che decide lui i tassi di interesse quest'ultimo è calcolato algoritmicamente in base alla domanda e all'offerta tra poco vi faccio vedere concretamente qual è il senso di tutto ciò ma di fatto maggiore è la domanda per un certo asset da chiederlo in prestito e più il tasso di interesse aumenterà al contrario maggiore è l'offerta e minore è la domanda cioè se tutti depositano bitcoin e nessuno lo chiede in prestito il tasso di interesse si abbasserà in maniera drastica questo è sempre un sistema di incentivi tra poco ve l'ho detto lo capiamo meglio con qualche dato alla mano il secondo compito è gestire i debiti di tutti i partecipanti ed eventuali liquidazioni cosa vuol dire? vuol dire che non deve assolutamente accadere che il collaterale depositato da qualche borrower valga meno del prestito che ha preso perché altrimenti la piattaforma diventa a debito diventa in perdita e se la piattaforma va in perdita per vari borrower magari va a finire che la perdita si ripercuote sui lender quindi la piattaforma va in default di fatto collassa diventa si dice insolvente nessun borrower deve essere insolvente quindi c'è un sistema definito di liquidazione che nel momento in cui il valore del collaterale di un borrower scende e potrebbe mettere a rischio l'assolvibilità del suo prestito il prestito viene chiuso forzatamente e il borrower riceve indietro il suo collaterale con una penalità di fatto di liquidazione anche questo lo vediamo meglio tra poco il terzo punto fondamentale è che il money market deve avere sempre liquidità libera cosa vuol dire vuol dire che non è pensabile che tutti gli usdc ad esempio presenti in un money market siano tutti presi in prestito tutti impegnati perché altrimenti il lender non può più prelevare i suoi usdc se li volesse non è un money market efficiente se c'è un mercato saturo quindi deve assicurarsi che ci sia sempre un cuscinetto di liquidità libero per essere prelevato e spostato andiamo a vedere come va adempiere a questi suoi importantissimi compiti se anche uno solo di questi tre compiti non viene portato a termine efficacemente il money market veramente non ha senso di esistere con l'assa non è efficiente il primo punto il terzo punto sono fortemente collegati perché perché il tasso di interesse che è ciò che paga quindi il borrower al lender e in parte alla piattaforma che si trattiene chiaramente una percentuale è dinamico è dinamico e da che cosa dipende dipende proprio dal tasso di utilizzo della liquidità guardate l'esempio che vi ho riportato sulla destra è preso da tectonic che è fatto molto bene come lo spiega molto bene si fa capire ecco come vedete abbiamo una parte sotto l'85% di tasso di utilizzo dove il tasso di interesse pagato dal borrower aumenta linearmente senza aumentare in maniera esagerata e arriva guardate soltanto al 425% se il tasso di utilizzo è dell'85% ora non ricordo che asset fosse però è giusto per farvi capire chiaramente i numeri possono variare in base all'asset in base alla piattaforma ma ciò che mi preme è farvi capire il funzionamento ad alto livello ok quindi abbiamo una zona di funzionamento sano chiamiamola laddove c'è tanta liquidità a disposizione c'è domanda al crescere della domanda il tasso di interesse cresce linearmente come vedete ma non si rischia la saturazione perché siamo sotto in questo caso all'85% è la piattaforma che decide quello che per lei è un livello superato il quale si va a rischio saturazione se superiamo l'85% in questo caso superiamo la soglia di rischio saturazione vedete che il tasso di interesse inizia a crescere in maniera molto più ripida per quale ragione perché in questa zona che è la zona a rischio inefficienza si va a incentivare a borroare meno perché perché mi costa un occhio della testa il tasso diventa altissimo e a prestare più liquidità da lender i lender sono incentivati a depositare perché perché c'è un tasso di interesse altissimo e allora il guadagno è maggiore costo maggiore per il borrower guadagno maggiore per il lender vuol dire che si va a giocare sugli incentivi per aumentare l'offerta e diminuire la domanda e in questo modo l'obiettivo è proprio ritornare nella zona di funzionamento sano laddove un money market efficiente dovrebbe sempre rimanere in particolare nella zona più a destra di funzionamento sano perché la domanda è importante come vedete non sono le due curve che vedete quella rosa e quella gialla la rosa è il borrower APY quindi ciò che paga il borrower la gialla è il supply APY quindi ciò che guadagna il lender c'è un pelino di differenza e questa differenza di fatto viene trattenuta dalla piattaforma e viene messa in un fondo cuscinetto da usare nei casi di emergenza come quando si perde non lo so un cigno nero liquidazioni incontrollate cose del genere ma insomma avere un cuscinetto di liquidità a disposizione è sempre una sicurezza in più o magari per fare buyback del token per andare a gestire appunto la sua economia la sua tokenomics fatto sta che il tasso di supply e di borrow tendenzialmente non sono mai equivalenti ma c'è sempre una percentuale trattenuta dalla piattaforma quindi vedete se una banca di per sé decide il suo tasso di interesse in base ai suoi calcoli interni un money market lo decide algoritmicamente voi lo potete vedere in qualsiasi momento perché se voi andate a cliccare sui vari mercati disponibili di prestito vedete per ognuno di essi un grafico come questi che vi fa vedere dove ci troviamo adesso qual è il tasso di supply e di borrow e il tasso di utilizzo della liquidità a disposizione il tasso di interesse quindi è calcolato dinamicamente in base a domande offerte e spero che adesso questo concetto sia più chiaro andiamo avanti invece col secondo punto ovvero la gestione dei debiti della loro solvibilità e di eventuali liquidazioni la liquidazione è ciò che non deve avvenire se noi siamo borrower ne parleremo tra poco quando trattiamo il tema dei rischi ma mi raccomando non fatevi liquidare perché? perché c'è una penalità come vedete anche qui ho preso due screenshot il primo sempre da Tectonic e il secondo da Ave dove viene mostrato vengono mostrati scusate quelli che sono i parametri fondamentali per quantificare tutto ciò ovvero la riserva che è chiamata reserve factor in Tectonic in Ave non è specificata in verità e è la differenza che abbiamo visto prima tra le due commissioni borrower lender trattenuta come fondo cuscinetto in Ave probabilmente è spiegata nella documentazione non è esplicitata nei grafici comunque questa non riguarda tanto il debito diretto ma riguarda appunto la creazione di un fondo salvaguardia per evitare eventuali cigni neri e reagire meglio il secondo parametro invece è il collateral factor detto anche loan to value loan to value è un termine col quale si intende il valore del prestito rispetto al valore del collaterale loan to value loan è il prestito il value è il value del collaterale quindi è il massimo in percentuale di prestito che io posso richiedere senza incorrere in liquidazione a fronte del deposito di una certa quantità di collaterale se il mio loan to value va a superare un valore massimo di soglia che vedete sotto in Ave è mostrato all'80% abbiamo la liquidazione e quindi non deve assolutamente avvenire come vedete molto spesso il loan to value massimo all'apertura di un prestito dovrebbe essere sempre così è minore del limite di liquidazione perché perché se io vado ad aprire un prestito direttamente al massimo e poi succede un più 0,01% meglio un meno 001% vengo liquidato istantaneamente quindi direi che non è cosa ma non è neanche cosa prendere prestiti subito al loan to value massimo perché i rischi sono molto molto elevati il loan to value è uno dei parametri più importanti da gestire quando si è borrower proprio perché bisogna evitare di farsi liquidare altrimenti il proprio prestito viene chiuso forzatamente con una penalità del 5% del 10% dipende dalla piattaforma e dal mercato ma stiamo in sostanza buttando via capitale quindi non fatevi veramente liquidare andiamo avanti e parliamo dei rischi nei quali c'è anche il rischio di liquidazione quindi lo andiamo ad approfondire meglio qui i primi rischi li vado un po' veloce perché ne abbiamo già parlato abbastanza nelle scorse puntate sono i soliti rischi sistemici quindi bug exploit di smart contract nel caso in cui lo smart contract fosse programmato male a falle di sicurezza errori appunto di programmazione insomma tutto ciò che riguarda il mondo informatico sapete che è per definizione vulnerabile e anche i money market sono fanno parte di questa categoria admin risk anche in questo caso se ci sono address o entità che hanno potere sulla piattaforma queste entità potrebbero scammare se sono in mala fede fare operazioni sbagliate fare errori insomma ci si espone al rischio di errore umano o peggio ancora di truffa una piattaforma un money market ben fatto dovrebbe essere decentralizzato quindi non avere un amministratore in grado di andare a cambiare i parametri di fare cose soltanto con la sua volontà o con la volontà di poche persone tendenzialmente c'è una governance ci sono sistemi di votazione dei time lock di nuovo altro termine che abbiamo introdotto negli ultimi nelle ultime puntate che permettono comunque di avere un intervallo di tempo prima della messa in atto della modifica in questione poi abbiamo invece dei rischi più specifici uno scusato un passo indietro per minimizzare questi rischi valgono anche qua le solite regole quindi longevità della piattaforma liquidità a disposizione e cose simili proprio perché più una piattaforma dura e più liquidità ha sopra più un hacker o un malintenzionato dovrebbe essere già stato più che incentivato a bucarla se ne fosse stato in grado andiamo avanti rischi specifici in questo caso abbiamo il rischio legato alla scarsa liquidità detto liquidity crunch il che vuol dire immaginatevi di avere di essere l'ender aver depositato non lo so i vostri usdt per dire in un money market che però aveva poca liquidità aveva mezzo milione di liquidità questa liquidità è stata tutta presa in prestito e allora cosa succede io non li posso più prelevare perché se sono presi in prestito finché il prestito non viene ripagato non ci sono fondi liberi e questo è un problema motivo per cui una piattaforma efficiente come abbiamo visto prima deve funzionare in maniera sana con i giusti incentivi ma questi incentivi a volte non bastano se non c'è abbastanza liquidità quindi mi raccomando non usate mai un money market con scarsa liquidità altrimenti c'è questa tipologia di rischio rischio liquidazione se contraggo debito qui ritorniamo alla slide precedente perché se io vado a contrarre del debito quindi a un rischio che riguarda solo il borrower e il mio collaterale dampa di valore rischio di farmi liquidare quindi mi raccomando il consiglio è tenete un loan to value basso non fatevi prendere dall'avarizia dall'avidità perché poi si rischia prendendo un prestito troppo grande magari si può andare a guadagnare di più sull'asset preso in prestito ma si rischia la liquidazione che è veramente un disastro ultima cosa anzi penultima cosa il liquidity mining come ben sapete il liquidity mining è un procedimento ampiamente utilizzato nella DeFi dai protocolli per incentivare il loro utilizzo anche nei money market va per la maggiore perché? perché come vi dicevo la liquidità è uno dei beni principali per un money market per funzionare con efficienza scarsa liquidità vuol dire inefficienza attirare liquidità quindi è una challenge che interessa anche il money market come fa? chiaramente con liquidity mining ovvero pagare sia i lender che i borrower tra l'altro perché serve liquidità in entrambi su entrambi i lati con i loro token quindi il modello economico diventa quello che vedete in questo schema abbiamo il nostro money market con lender e borrower in questo caso il flusso è il flusso di capitale il flusso di capitale dal lender ovviamente è solo in entrata perché il lender non paga nulla il lender deposita la sua liquidità incassa gli interessi derivanti dal prestito della sua liquidità e in più se presente incassa il liquidity mining attenzione perché l'interesse sul prestito è pagato direttamente nell'asset prestato quindi se io presto BTC riceverò l'interesse in BTC se presto USDC in USDC e così via mentre il liquidity mining di solito viene pagato nel token della piattaforma quindi in Aave in Tonic in quello che è il borrower invece ha un flusso bidirezionale perché chiaramente il borrower usufruisce del servizio quindi paga questo servizio sotto forma di tasso di interesse sull'importo preso in prestito ma riceve se presente il liquidity mining quindi deve fare un po' un bilancio quanto pago e quanto ricevo e andare a capire quanto gli conviene utilizzare quel money market oppure se gli conviene utilizzare un altro anche in questo caso l'interesse sul debito è pagato nell'asset preso in prestito quindi se io deposito BTC a collaterale e prendo in prestito USDC io alla fine dovrò ridare indietro più USDC quindi l'interesse è pagato in USDC non in BTC attenzione non nel collaterale ma nell'importo preso in prestito il liquidity mining anche in questo caso lo pago in token cioè scusate mi viene pagato in token da parte della piattaforma quindi il liquidity mining è un costo per la piattaforma un guadagno sia per il lender che per il borrower mentre l'interesse pagato arriva dalle tasche del borrower la piattaforma ne trattiene una piccola parte magari poi per far buyback dei suoi token oppure per metterlo nel fondo cuscinetto il resto viene pagato al lender questo è il modello economico estremamente semplice che c'è dietro ad un money market ultima cosa la domanda da un milione di guai perché borroware perché usare la piattaforma di lending per prendere in prestito ma chi me lo fa fare qual è il senso allora il senso c'è e come il primo senso può essere il più banale possibile ovvero io non voglio vendere i miei btc i miei eth ma voglio della liquidità voglio non lo so andare ad acquistare qualcosa voglio usare la liquidità per farmare voglio comprare una land in un metaverso non lo so qualsiasi cosa e allora cosa faccio vado a mettere i miei btc e th collaterale quindi sono sempre miei prendo in prestito le stable e con le stable vado a comprare la macchina vado a comprare la land vado a farmare su anchor vado a fare altre cose quindi posso combinare la potenza che c'è nel farming sulle stable coin che di solito è quello che rende di più andando a non vendere le mie crypto quindi soltanto collateralizzandole e in più in molti paesi la collateralizzazione con prestito non è un evento tassabile quindi vado anche a non generare appunto eventi tassabili non faccio una vendita ma faccio un prestito ma prendo un prestito e quindi questo è un motivo con la DeFi che adesso è sempre più componibile ci sono sempre più incentivi a collateralizzare perché il numero di collaterali è sempre in crescita adesso ci sono i cosiddetti yield generating collateral quindi avere non lo so dei token che di per sé generano interesse utilizzabili come collaterale per prendere in prestito altro vedi abracadabra che adesso andiamo poi a vedere i token LP adesso possono essere utilizzati come collaterali quindi io vado a depositare sui DEX vado a farmare lì magari ottengo col mio token LP che mi dà la quota di liquidità come abbiamo visto che cresce di valore io quello lo uso come collaterale e prendo in prestito contro di lui delle stable coin il liquid staking è un altro trend sicuramente che va a generare del collaterale utilissimo per quale motivo perché io metto in staking SOL ad esempio vado a guadagnare l'interesse dello staking ottengo MSOL MSOL lo posso usare come collaterale prendere in prestito stable coin e quindi io sono esposto a MSOL che nel frattempo aumenta di valore ho preso in prestito le mie stable coin farmo con le stable coin e quindi sono stracontento perché sono esposto a SOL perché sono bullish su Solana guadagno lo staking di SOL guadagno dal farming delle stable e via vedete che si vanno a combinare tutte queste strategie in sostanza la collaterale è utile qualora si voglia combinare diverse piattaforme DeFi mantenendo l'esposizione questa è la base all'asset che sto collateralizzando infine un'altra possibilità è un'esposizione in leva quindi ad esempio voglio andare in leva per 2 su BTC collateralizzo BTC prendo in prestito delle stable coin con quel collaterale con queste stable coin compro altri BTC quindi se BTC sale ricordatevi che il debito è sempre in stable coin quindi io prendo in prestito stable devo restituire quel valore in stable non è che se sale di prezzo il BTC che ho comprato con quelle stable devo restituire di più no il debito è stabile più il tasso di interesse se BTC sale il mio collaterale aumenta di valore i BTC che ho comprato con le stable aumentano di valore e quindi il mio profitto è in leva chiaramente se BTC scende la perdita è amplificata allo stesso modo quindi massima attenzione in tutti questi casi vi ricordo di fare attenzione di nuovo alla liquidazione tenete sotto controllo il loan to value non spingete troppo con il loan to value bene la teoria è terminata adesso buttiamoci sulla pratica quindi andiamo a vedere come si usa è semplicissimo un money market e andiamo a vedere tutti i principali money market esistenti che caratteristiche e differenze hanno benissimo eccoci qua da bravo mi son preparato come vedete qua sopra tutti i money market che andremo a vedere oggi così da capire l'utilizzo pratico che ve lo ripeto è veramente facile lo vedrete coi vostri occhi e la differenza tra una piattaforma e l'altra sono differenze sottili ma qualcuna un po' meno in realtà ma vale la pena conoscerle per poi sapersi muovere nel migliore dei modi allora partiamo da Aave che probabilmente è quella più conosciuta nonché più utilizzata e al momento è presente su 3 chain su Ethereum su Polygon e su Avalanche utilizzo questa per fare l'esempio concreto con tanto di depositi prelievi eccetera perché sono poverissimo e non posso permettermi le fee di Ethereum quindi la prima cosa che vogliamo fare è andare a depositare collaterale supponiamo di avere dei matic al momento ne ho ben 1,4 e andiamo a utilizzarli come collaterale per prendere in prestito degli usdc ok un'operazione a caso qualunque e poi chiaramente quegli usdc io li posso brigiare su altre chain li posso mettere su altre piattaforme ma a noi interessa adesso l'operazione di land e borrow no quindi andiamo a depositare matic come prima cosa ci clicchiamo sopra e vedete che già vediamo i parametri di cui abbiamo parlato prima vediamo il tasso di utilizzo che è soltanto del 16% la parte rossa è la parte di liquidità presa in prestito la parte verde è quella disponibile abbiamo un tasso di utilizzo del 17% quindi direi che di rischi di liquidità non ce ne sono bisogna fare attenzione all'own to value massimo e al limite di liquidazione l'own to value massimo 50% vuol dire che con i miei matic io posso prendere in prestito un massimo della metà del loro valore quindi se deposito un matic che adesso non mi ricordo neanche quanto vale però poi ci andiamo a vedere posso prendere in prestito la metà al massimo appunto del suo controvalore se dovesse dampare e arriva a valere il prestito che ho preso arriva a valere il 65% del valore dei miei matic vengo liquidato quindi mi viene forzatamente chiuso il prestito con un 10% di penalità quindi ho una perdita netta oltre alla perdita del mercato del dam del mercato del 10% quindi fate attenzione perché di fatto io perdo il mio collaterale quello che succede è esattamente quello il mio collaterale viene venduto a sconto un po' alla volta finché non viene sanato il mio prestito non deve quindi succedere che il mio prestito vale il 65% dei matic che ho depositato io ora vado a fare il deposito nel fare il deposito non sto contraendo debito sto solo facendo un deposito di collaterale e nel frattempo vado a guadagnare comunque l'APY del deposito che è dello 0,39% più il 3% pagato in vmatic che è il liquidity mining ok quindi abbiamo il guadagno da liquidità fornita e il guadagno da liquidity mining per un totale del 3,4% circa depositiamo vediamo depositiamo un matic così teniamo qualcosa anche per le gas fee qua mi fa il recap dei vari parametri un matic vale 2,5 dollari quindi con un matic potrò borroware un massimo di 1,25 direi all'incirco 1,27 perché è 2,54 continuiamo ok vedete un matic 2,5 dollari usa come collaterale sì perché nel frattempo lui può cioè fa da liquidità nel senso che mi guadagno l'APY di deposito e lo uso come collaterale per borrowarci contro depositiamo confermiamo la transazione sul nostro metamask tac conferma dovrebbe essere molto veloce su matic direi quindi non sto neanche a tagliare questa parte di video anche perché non ho minimamente voglia di farlo dai matic collaboriamo così una volta fatto questo deposito eccolo qua vedete il tuo saldo in ave un matic siamo assolutamente sul pezzo saldo del tuo portafoglio 0,42 perché il resto mi è rimasto su metamask se adesso torniamo nella nostra dashboard vedete abbiamo qua la sezione dashboard dove possiamo vedere la nostra posizione possiamo vedere che abbiamo un deposito non abbiamo debito ok innanzitutto abbiamo soltanto collaterale e abbiamo un matic equivalente a 2,53 dollari come collaterale per l'appunto stiamo guadagnando un APY di questo tipo garanzia sì io volendo posso anche mettere no mi fa fare una transazione dove firmo questa cosa e significherebbe che supponiamo che io oltre a matic ho depositato anche VBTC o VETH e magari voglio utilizzare come collaterale per un prestito soltanto i VETH quindi cosa faccio nella mia dashboard vado a flegare sì solo su VETH e vado a flegare su no sugli altri due così quali non fungono da collaterale è solo liquidità fornita alla piattaforma bene quindi adesso abbiamo il nostro il nostro deposito fatto se io voglio soltanto depositare e ottenere l'APY ho finito qui ok quindi se io fossi un lender chiaramente non avrei depositato matic perché frutta poco magari avrei depositato qualche coin che frutta di più come USDT che mi dà il 7,5% e basta io periodicamente vengo qui vedete c'è da fare l'harvest della reward di liquidity mining perché è pagata nel token mentre il resto si va ad accrescere direttamente sulla quantità dei miei matic in qualsiasi momento io posso prelevarli e riottenerli sul mio wallet ok quindi questa è la situazione se io voglio andare a prendere un prestito adesso utilizzando quindi a borroware utilizzando questi matic come collaterale io ritorno vedete qui su mercati andiamo a vedere possiamo prendere in prestito quella che costa meno di stable coin quindi 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 direi USDC che mi costa il 4% più 2,5 attenzione che il tasso è variabile perché perché come vedete su USDC abbiamo un tasso di utilizzo più alto dell'86% e quindi il tasso di interesse è più alto a sua volta no vedete in passato era anche al 90% il 21 di novembre era al 90% guardate questo piccolo picco infatti l'APY è salito fino al 9% l'APY per il prestito e al 7,5% di chi andava a depositare la liquidità è il discorso di tasso di interesse dinamico che vedevamo prima qui probabilmente c'è una curva diversa da Tectonic perché vedo un po' di picchi solo in corrispondenza delle insomma dei piccoli picchi di tasso di utilizzo però la variazione non è elevata noi adesso siamo all'86 qui eravamo al 90% adesso il tasso variabile è 386 e prima era quasi il triplo quindi non so come sia la curva probabilmente ripeto è nella documentazione ma questo era solo a scopo di definizione di andare a verificare quello che abbiamo visto prima nella teoria adesso io voglio prendere in prestito quindi come funziona funziona che io vado a pagare il prestito a tasso variabile il tasso fisso non è disponibile è disponibile solo su etereum credo e comunque non è mai conveniente di solito tra poco vi faccio vedere anche qual è la differenza prestito a tasso variabile è soggetto a fluttuazioni quindi se la utilization rate improvvisamente aumenta io vado a pagare molto di più quindi bisogna fare attenzione è il 386 di APR 393 di APY adesso c'è anche qui la differenza del compounding vi ricordo che abbiamo visto nella seconda puntata mi pare però può variare quindi bisogna fare attenzione perché appunto se la utilization rate aumenta il tasso che vado a pagare aumenta quindi non pensate che è questo per sempre stabile ok mi raccomando quindi ora come ora noi andiamo abbiamo visto tutto di nuovo le varie i vari parametri qua il loan to value è riferito è così alto perché è riferito a USDC usato come collaterale il mio io devo guardare quello di Matic che è più basso perché ovviamente USDC è stabile e allora si permette un loan to value più alto perché c'è meno rischio di volatilità su Matic che è più volatile il loan to value massimo è più basso comunque noi a noi interessa qua vedete prestiti loan to value 50% ce l'abbiamo già quindi disponibile 1,26 USDC mi fa già il calcolo molto comodo in base al collaterale che ho di quanto posso prendere in prestito io clicco prendere in prestito quindi e andiamo prendere in prestito 1 vedete qui ci calcola anche l'health factor l'health factor è un numero che va dal verde che è con un colore per farci capire che va dal verde al rosso e decresce più vado verso il rosso più l'health factor decresce l'health factor in sostanza è un rapporto probabilmente tra se qui è 1,3 sarà tra il loan to value attuale e il loan to value della liquidazione più si avvicina 1 più vado verso la liquidazione quindi non deve succedere e devo stare attento quindi a muovermi in una zona di rischio che sia abbastanza safe quindi io ad esempio il massimo è 1,25 la liquidazione era il 10% in più se non ricordo male facciamo che prendiamo in prestito un USDC siamo già in zona semi rossa però visto che lo chiudiamo tra poco possiamo permettercelo e andiamo a fare continua seleziona il tuo tasso di interesse variabile continua può aumentare diminuire me lo ricorda nuovo health factor 1,63 che è quello complessivo prendiamo in prestito confermiamo così poi andiamo a rivedere la nostra dashboard e facciamo le ultime considerazioni l'health factor come vi dicevo si aggiorna in base alla nostra situazione di debito e liquidità messa a disposizione se noi adesso prendiamo questo prestito e poi andiamo a depositare altro collaterale l'health factor aumenta proprio perché il rischio diminuisce ok quindi adesso abbiamo fatto tutto torniamo alla dashboard e andiamo a vedere la nostra situazione allora abbiamo il nostro deposito di un Matic come prima e abbiamo un debito questa è la posizione di debito sulla destra abbiamo il debito sulla sinistra il collaterale il nostro debito aumenta all'80% di potere di indebitamento usato perché abbiamo visto che il massimo loan to value di Matic era del 50% noi ne abbiamo usato un po' meno abbiamo preso in prestito un dollaro non 1,25 ok quindi abbiamo usato l'80% del potere di indebitamento loan to value corrente 39,73 importantissimo questo fattore collaterale 2,5 dollari borro un dollaro e il rapporto 1 fratto 2,53 fa il loan to value l'health factor è il parametro calcolato come abbiamo visto prima mantenerlo sopra 1 per evitare la liquidazione esatto è proprio quello che dicevamo se l'health factor arriva a 1 io vengo liquidato quindi massima attenzione mi calcola già da solo tutti i pesi in base ai vari collaterali che ho il loro loan to value il loro liquidation value e i prestiti che ho preso se mi va a dampare Matic che anziché 2,50 mi va a valere 1,50 il mio loan to value cambia perché io avrei un dollaro di prestito 1,50 di collaterale 1 diviso 1,50 fa un cosa sarà un 66% circa e quindi vengo liquidato perché il liquidation price l'avevamo visto prima andiamo a rivederlo di Matic è il 65% il mio health factor quindi diventa minore di 1 liquidazione non deve succedere comunque ora io ho i miei bellissimi USDC dove sono solo Dio lo sa però sono all'interno del mio wallet allora facciamo una cosa perché ho visto che torniamo sulla dashboard c'era non l'ho cliccato quando ho preso il prestito c'era aggiungi USDC a Metamask e io da bravo furbo non l'ho fatto vediamo andiamo qua no vabbè token personalizzato no comunque io ho i miei USDC qua dentro no adesso facciamo che ve lo mostro da Etherscan no schiave privata magari no da MaticScan scusate ERC20 token vedete TAC USDC eccolo qua 1 quindi ho i miei belli USDC spendibili che cosa c'ho qua sopra tra l'altro degli Ether c'ho roba a caso su questo wallet avrò fatto un po' di prove comunque 1 USDC e io con questo USDC posso fare quello che voglio no in realtà ne ho più di 1 ne ho 4 bene buono a sapersi ma quello che ho preso in prestito è 1 e ci posso fare quello che voglio ok bene abbiamo fatto un po' di confusione che ci voleva secondo me ma vedete la transazione è questa io ho ricevuto un USDC in prestito quindi adesso volendo lo posso spostare su un altro su quick swap metterlo in farming lì cambiarlo in altre cose brigiarlo su altre chain ma io rimango con un debito di un USDC su Polygon quindi nel momento in cui voglio chiudere questa posizione e riavere il mio collaterale devo andare a ripagare su Polygon il debito di un USDC ripagare massimo continua approva perché prima c'è l'approvazione che qui non l'avevo mai fatta approvazione poi ripago il debito poi ho terminato e sblocco il mio collaterale e una volta che ho sbloccato il mio collaterale me lo posso prelevare sul mio wallet quindi ripaghiamo il nostro debito che ci costerà un USDC conferma se volete poi vi faccio anche rivedere anche le transazioni al contrario così su Polygon Scan scusate che è più più chiaro bene finito ora non ho più debito ah finalmente che bella sensazione andiamo su Polygon Scan refresciamo tac vedete come qui abbiamo un dov'è 4 minuti fa non è ancora probabilmente arrivata la transazione non è ancora stato aggiornato eccola in uscita un USDC verso Aave tac lo ho restituito in questo modo il mio collaterale che vedete prima era in entrata a me che Aave l'ha dato a me e adesso io l'ho ridato ad Aave adesso ritorniamo qui e risblocchiamo il nostro collaterale perché lo rivolgiamo indietro cioè finché qui lui farma i PY vedete che ho già sto continuando a macinare VMATIC ormai sono già miliardario ma mi basta così allora preleviamolo il nostro MATIC volendo possiamo anche fare l'harvest se vogliamo proprio strafare facciamo il claim mi costano di più le gas fee probabilmente del guadagno quindi lasciamolo pure lì se noi andiamo adesso a prelevare un MATIC vedete che in realtà è quel cosino in più perché mi è fruttato la vedete che aumenta 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 di 10 alla meno 50 probabilmente alla volta ma perché lui sta maturando il suo IPY quindi preleviamolo approviamo di nuovo tac andiamo a confermare la transazione poi una volta approvata lo preleviamo e abbiamo indietro il nostro fantastico collaterale e abbiamo terminato vedete è molto semplice alla fine io ve l'ho fatta lunga vi ho anche fatto vedere tutti i dettagli ma la realtà è proprio quella è semplice le operazioni sono poche sono anche semplici da capire deposito collaterale prendo il prestito se lo voglio uso il quanto ho prestato in giro restituisco il prestito sblocco il collaterale prelevo il collaterale confermato tutto adesso abbiamo finito vi faccio rivedere anche le transazioni poi su Polygon Scan quando saranno disponibili ma abbiamo ben visto che è tutto qua la dashboard adesso è vuota perché non ho depositi e non ho nient'altro quindi questo è tutto ciò che riguarda Aave allora torniamo sulla versione Ethereum perché vi avevo parlato del tasso fisso guardate come il tasso fisso è assolutamente non conveniente quindi lasciatelo perdere perché per arrivare a questo tasso comunque ci deve essere un utilization rate folle e è veramente raro che accada vedete che il tasso fisso è solitamente sempre più alto di quello variabile a meno di casi estremamente strani ma non li ho mai visti capitare su Ethereum chiaramente c'è più mercato c'è più liquidità ma sapete meglio di me che Ethereum è come si dice è il centro della liquidità alcuni hanno un APY più alto in base alla domanda e all'offerta ve l'ho detta la regola è sempre quella lì ad esempio DAI ha il 2,81% di interesse perché ha usato il 78% se ritorniamo indietro e andiamo a vedere Gemini dollar è utilizzato all'81% e ha un tasso di interesse più alto probabilmente dipende anche dalla liquidità totale disponibile torniamo su Polygon Scan vi faccio vedere le ultime transazioni eccolo qua i miei V-Matic che mi vengono sbloccati io ridò ad Aave i V-Matic perché erano frappati cioè su Aave A-M-V-Matic e in cambio ricevo non di ERC20 avrei dovuto ricevere un Matic insomma adesso probabilmente si deve ancora aggiornare però il senso è quello come abbiamo visto prima in realtà qua me lo fa vedere ma 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 non me lo fa vedere qua in entrata vabbè non voglio diventarci pazzo il senso comunque è esattamente quello lì no? ok? quindi withdraw dovrebbe essere questo dovrebbe essere questa la transazione comunque adesso andiamo avanti con gli altri protocolli perché se no stiamo tre ore su Matic su Aave basta e andiamo a vedere compound compound è soltanto su ethereum torniamo quindi su ethereum tac allora compound funziona esattamente allo stesso modo supply è per depositare collaterale borrow è per prendere in prestito APY è ciò che si paga oltre l'APY c'è anche la distribuzione in comp quindi non è scritta però ad esempio se borrouate Aave non vi da niente in comp scherzavo se borrouate dai pagate il 4,56 ma ricevete l'1,11 in comp ok? quindi questo è la differenza per il resto è tutto identico ovvero noi per ogni mercato qua forse è meno chiaro da vedere la vediamo sotto markets eccolo se noi andiamo a selezionare eccolo bello come piace a me noi andiamo sotto markets andiamo a selezionare non so perché qui non c'era io sono sceso qua sotto ho cliccato markets in piccolo vabbè comunque noi andiamo a vedere l'andamento dell'APY e della liquidità per questo asset andiamo a vedere il tasso net un po' di parametri derivati andiamo a vedere in particolare il collateral factor che vuol dire il massimo loan to value ottenibile su questo asset ok? oltre al quale c'è la liquidazione resource factor 20% che si intasca alla piattaforma e questi sono i tassi guardate con tanto di simulazione questa è lineare abbastanza lineare e il viola è il tasso pagato da chi fa borrow il verde è il tasso intascato da chi fa lending quindi questi sono i soliti parametri numero di lender numero di borrower un po' di parametri in più quindi non cambia nulla ok? tutto qua tutto non cambia assolutamente nulla quando si va a depositare TH si riceve i C e TH che sono quelli che ricevono l'interesse nel tempo quindi crescono di valore un po' come i tocken LP poi direi che possiamo andare avanti non c'è altro di importante una volta che io deposito vado a flegare collaterale on ottengo potere di debito vado a borroware e poi il resto è esattamente uguale dobbiamo switchare a Kronos perché qui abbiamo tutte le chain possibili e immaginabili oppla benissimo allora Kronos anche questo banalissimo nel senso io vado a depositare cioè scusate qua ho scelto una liquidità vado a depositare ETH ad esempio tac collego il wallet chiaramente ecco supply users collateral di nuovo vado a vedere poi quindi quanto ho e ottengo potere di indebitamento posso andare a borroware direi non ETH perché avrebbe molto poco senso con ETH otterrei un massimo long to value del 75% sopra il quale si rischia la liquidazione quindi mi raccomando state safe come sempre e qua c'è un mercato saturo guardate quello di Kro è quasi saturo perché è quasi tutto borrowato al 98% in particolare abbiamo 177 milioni quindi abbiamo 4 milioni liberi questo è bello saturo infatti i tassi sono vedete abbastanza alti current 98% infatti abbiamo un borrow APY del 15% e supply APY del 13,16 con la distribuzione di TONIC ok i TONIC che è il loro token che viene distribuito come liquidity mining questo è quanto poi 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 andiamo avanti direi perché il funzionamento è veramente identico assolutamente uguale agli altri da qui si fa il claim dei TONIC c'è un insomma un meccanismo abbastanza standard andiamo avanti con BenQI che invece è su Avalanche quindi switchiamo ad Avalanche e qui di nuovo è uguale mi spiace per la noia ma questi sono veramente tutti uguali overview vedete abbiamo i mercati disponibili supply e borrow APY totale qui la notazione è di usare un APY negativo se pago APY positivo se vengo pagato cosa che non accade da nessuna parte perché comunque vedete c'è il liquidity mining in AVAX con l'Avalanche Rush lo scioglilingua e in QI che è il loro token di nuovo abbiamo l'health factor abbiamo il potere di indebitamento qui ci fa vedere le nostre posizioni vado a depositare liquidità supply and borrow qui mi fa vedere l'andamento bellissimo anche questo con tanto di tasso di utilizzo in arancione e in azzurro cos'è che mi fa vedere la la supply totale direi in migliaia cioè in btc 8000 btc e quindi io vado a fare supply tac vedete posso direttamente andarlo a fare da qua con il mio wallet collegato questo è l'APY questo è il liquidity mining collateral factor come al solito da non superare vedete massimo che può essere borruguato con questo asset come collaterale usa come collaterale lo devo chiaramente fleggare ok così una volta che vado a depositare aumenta il mio potere di indebitamento e posso andare poi a fare borrow quindi andare su USDC andare a fare supply and borrow stavolta borrow non ho collaterale quindi devo abilitarlo e una volta che lo faccio mi cambiano i parametri solita cosa su land stessa cosa ma su solana non cambia assolutamente nulla attiviamo anche qua il mio wallet di prova che è vuoto purtroppo quindi non credo che ci posso fare cose ma vedete anche questo è identico abbiamo la supply borrow borrow APY quindi qui non ci fa vedere il tasso di utilizzo ma ci dà i numeri ma secondo me se clicco su un asset vabbè supply mi fa vedere qua volevo vedere un po' di numeri un po' di dati non non me li fa vedere peccato 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 probabilmente allora è nei docs che ci sono tutti i dati beh sarebbe stato più comodo vederlo lì eh parameters ecco vedete qua ci fa vedere tutto peccato che non sia direttamente consultabile da qua ma magari un modo c'è supply borrow limit vabbè mi dice il borrow limit mi dice l'APY net mi dice le reward supply APY eccetera quindi io do 3.72 il borrow limit diventa 1.30 quindi immagino che c'è un un 30% di massimo loan to value perché è il token solend che è abbastanza volatile se vado su sol un sol 175 dollari vedete è più alto già e quindi il funzionamento poi è lo stesso io deposito il mio collaterale vado sulle stable coin un usdc vedete 75% sarebbe di loan to value massimo ma io le voglio borroware e qua mi fa vedere come posso fare e quanto vado a pagare in questo caso andrei a pagare l'877 e riceverei indietro il 581 in liquidity mining per un APY net del 2,97% poi Geist è identico quindi qua di nuovo questo è su phantom però è molto simile ad ave anche come interfaccia switchiamo a phantom così lo andiamo a vedere pure lui tac allora andiamo a depositare il nostro collaterale guardate è ave praticamente è lui è identico colleghiamo il wallet perché non me lo sta vedendo dai ce la facciamo ce la possiamo fare forse o forse no comunque è veramente identico ad ave ragazzi non ci sono differenze niente mi si è totalmente inchiodato vai connetti errore non supportato perché su che network sono su avalanche mea culpa mea culpa phantom opera eccolo qua che mi si sta inchiodando tutto abbiamo switchato troppe reti poi c'ho dietro tutte le varie dap che mi sclerano l'una con l'altra facciamo che chiudo tutte quelle vecchie così non mi mandano richieste non mi bombardano di richieste metamask eccoci colleghiamoci adesso ottimo così vediamo tutti i parametri allora 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 phantom anche qua deposite ipy lontoveglio massimo limite di liquidazione penalità collaterale sì tasso di utilizzo qui non mi fa vedere sottomercati magari me lo fa vedere non mi fa vedere i grafici che mi piacevano dei tassi peccato 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 e se vado su depositare neanche no neanche peccato niente comunque il solito nel senso si deposita il collaterale prendo in prestito prestito ipy deposito ipy e i geist che vengono ricevuti in realtà c'è un piccolo vesting vengono sbloccati nel tempo ma qui sono le tokenomics specifiche di questa piattaforma il resto è identico ad ave andiamo avanti con maker dao o meglio oasis questo è leggermente diverso ecco questi ultimi tre che sono maker dao abracadabra e venus hanno una particolarità che è quella di fare di avere le loro stable coin quindi maker dao a dai chiaramente quindi qui non stiamo prendendo un prestito effettivo da qualcuno stiamo creando dai e vedete ci sono tutti gli asset dove ci sono questi volt si chiamano ognuno dei quali ha una certa quantità di dai estraibili se io voglio andare ad esempio a collateralizzare vbtc per prendere in prestito dai con un minimo di collateralizzazione al 145% questo è l'inverso dell'own to value in sostanza è uno fratto l'own to value quindi se 145% vuol dire che i miei vbtc devono valere il 145% dei dai che prendo faccio open vault borrow against vbtc questa è un po' più complicata ma in realtà neanche troppo perché io do un vbtc supponiamo cosa succede allora succede che io vado a generare 32.000 dai devo stare attento di nuovo alla collateralizzazione non deve andare a non devo andare a farmi liquidare quindi occhio alla collateralizzazione e quello che accade è che pago una stability fee si chiama qui non abbiamo il tasso di interesse annuo ma abbiamo la stability fee quindi nel momento in cui vado a aprire un volt vado a generare dei dai io pago la stability fee una tantum tac questa è la differenza poi con i dai ci faccio quello che voglio ok quindi io posso generare 32.000 dai vado avanti faccio generate dai decido quanti in base a quello vado ad avere un certo tasso di collateralizzazione no chiaramente non posso fare non posso portarlo sotto al 145% pena la liquidazione basta tutto qui il resto cioè qua non c'è borrow land qui puoi solo fare questa operazione e andare a ottenere dei dai pagando la stability fee venus su bsc di cui non ah qua c'è sempre white paper là in alto a destra io mi sbaglio e lo clicco aspettate che mi porto su bsc eccoci allora 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 anche qua sembra complicato ma non lo è l'unica differenza che c'è vai che è la loro stable coin che possiamo far finta anche che non esista volendo io posso usare solo il money market che è qua in basso a destra quindi depositando ad esempio btc o bnb anche lo vado a depositare vedete supply tac metto dentro e ottengo l'1.58 più 1.03 di xvs che è il token di venus non è vai è un'altra cosa vai è la stable coin deposito e bene tutto tutto fatto qui vedete posso andare a vedere i vari mercati quindi bnb se mi interessa allora so già che ho un apy del 2.62% composto da bnb e xvs se voglio vedere i parametri vedete resource factor 20% collaterale 80% suppliers e borrowers quindi non devo salire sopra l'80% io vado a depositare bnb lo flaggo come collaterale prendo in prestito usdc pago questo 6.4 meno 1.45 che mi viene distribuito ottengo i miei usdc ci faccio quello che voglio posso anche fare il mining e repay di vai ok quindi posso fare una cosa simile a quella che accade con dai che abbiamo visto prima ovvero quando io vado ad aprire una posizione di vado a dare del collaterale io posso anziché andare a prendere in prestito degli usdc andare a creare dei vai in questo caso io pagherò una mind fee e basta purtroppo adesso il mio limite è zero perché non ho nulla però è esattamente come la stability fee di maker dao io vado a pagare questa mind fee poi faccio tutto a ritroso e restituisco il prestito e questo è bene amici che dire io spero di essere stato comprensibile ma completo perché il money market è fondamentale per comprendere le dinamiche della defi li abbiamo visti tutti abbiamo visto i principali anche a costo di ripetere le stesse cose abbiamo fatto il tutorial passo passo per uno solo perché davvero se no è restenuante farlo per tutti essendo tutti uguali se magari vi riguardate questo video con un po' più di calma potete soffermarvi su quello che vi interessa di più e andare a focalizzare l'attenzione lì ma vedete che i concetti sono sempre quelli se avete dubbi domande qualsiasi cosa i commenti sono tutti i vostri quindi sbranateli io nel frattempo vi faccio un caro saluto state sempre sul pezzo mi raccomando perché noi ci rivediamo la settimana prossima col prossimo episodio ciao